Il riscontro di diverse positività al nuovo coronavirus presso l'ospedale San Massimo di Penne ha portato la ASL di Pescara ad attuare delle procedure restrittive per tutelare pazienti ed operatori sanitari. Infatti, dalla giornata di oggi è sospesa l'attività chirurgica con tutte le attività a carattere di degenza, ambulatori e dei sargeri. Le attività di interruzione spontanea di gravidanza sono spostate presso il presidio ospedaliero di Pescara. Le urgenze di tipo chirurgico, sia quelle trasportate da 118 che quelle di pronto soccorso, saranno indirizzate nei presidi ospedalieri di Pescara e Popoli. Le urgenze ortopediche dovranno essere trasferite presso le unità operative di Pescara o Popoli in base alla gravità e alla disponibilità di posti letto. I pazienti di ortopedia, dopo tampone al Covid-19, saranno spostati a Popoli. I pazienti chirurgici, tuttora adeggenti, concentrati nel minor numero di stanze, verranno dimessi appena possibile. L'unità operativa complessa di medicina sarà ridistribuita su due piani. Al primo i Covid-19 negativi, al secondo i Covid-19 positivi. A questo reparto saranno aggregati i sanitari del blocco operatorio e dell'afochirurgia. L'attività dell'unità operativa semplice di anestesia e di terapia intensiva post-operatorio garantirà un medico H24 per trasferimento pazienti. Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo nella mattinata di oggi ha emanato un nuovo bollettino con i numeri aggiornati sui casi di positività. Nell'area Vestina, un uomo e una donna di Civitella Casanova, confermato dallo stesso sindaco Marco D'Andrea, con una nota sul profilo Facebook del Comune, raccomandando ai suoi cittadini di mantenere la calma e di restare a casa. Un terzo caso a Nociano, confermato anche qui dal sindaco Lorenzo Mucci, comunicando che la ASL ha già avviato tutti i protocolli, comprese le procedure di quarantena obbligatoria. Il quarto caso è a Cepagratti. Qui, come confermato dal comunicato ufficiale del Comune, si tratta di un uomo già ricoverato presso l'ospedale di Pescara. Intanto tutti i comuni dell'area hanno attivato il COC, Centro Operativo Comunale. i numeri utili e le informazioni possono essere consultabili sui siti internet e profili social ufficiali.